Siamo pronti qui col caffè, vediamo queste brave ragazze che hanno il caffè, bravissimi con i biscotti pure, complimenti, questo è il nuovo servizio, il nuovo servizio dell'ACAP, le persone che vengono per ingannare l'attesa mentre loro aspettano, mentre aspettano per ricevere la lista lavoro possono avere caffè e biscottini. Ringraziamo il Signore per questo piccolo servizio, c'è il caffè, biscottini, zucchero e ringraziamo il Signore perché le persone che vengono qui sono felici anche per l'attesa, che vengono ingannati dall'attesa, si spera che pregano mentre aspettano l'apertura, viene data la lista lavoro, tutte le persone che stanno cercando lavoro, gli viene data la lista lavoro. Mentre aspettano prendono il caffè gratis, quando finisce il caffè e loro basta che bustano e poi metto altro caffè caldo, altri biscotti, altri bicchierini. Ringraziamo il Signore per la Sua parola, le varie persone che sono qui, persone che vanno, che vengono, che continuano a venire e ringraziamo il Signore e preghiamo per tutti quanti loro che possono anche trovare un bel lavoretto e grazie a Dio. Grazie a Dio.